Una mostra gratuita per celebrare 150 anni dell'Istituto Geografico Militare. Fino al 6 novembre, tutti i giorni dalle 10 alle 17, nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana di Firenze, sarà possibile visitare l'esposizione delle cartografie denominata Istituto Geografico Militare, alla scoperta di un'istituzione antica volta al futuro, per Aspera ad Astra, il modello geometrico del territorio italiano. Si tratta di una grande occasione per far conoscere ai fiorentini e ai turisti la realtà dell'Igm, un vero patrimonio dell'Italia. Non solo cartografie, la mostra è arricchita dalla presenza di stand promozionali per l'esposizione e la vendita di alcuni licenziatari del marchio esercito, per esempio borse e valigie ed il gustoso cioccolato militare. L'esposizione sarà affiancata da alcune iniziative. Mercoledì 26 ottobre alle 10, presso Palazzo San Marco, sede dell'Istituto Geografico Militare, si terrà il simposio IGM alla scoperta di un'istituzione antica volta al futuro. La sera, alle 21, concerto della banda dell'esercito presso il Teatro della Compagnia di Firenze. Giovedì 27 alle 10, presentazione del Franco Bollo commemorativo e annullo filatelico presso la sede dell'Istituto, mentre un'ora dopo si terrà l'inaugurazione della scultura di Piero Ceramelli, i tempi e la storia della geografia. Infine, venerdì 28 ottobre alle 10, cerimonia per lo scoprimento della targa commemorativa per i 150 anni dell'IGM. A seguire, spettacolo teatrale sulla storia dell'Istituto a cura della Compagnia delle Seggiole di Firenze.